Interpretare le norme, approfondire il decreto sicurezza e restare al passo con la tecnologia. Questi i temi principali del 24esimo convegno nazionale di polizia locale che si terrà il 28 e il 29 marzo a Spezia Expo, presentato questa mattina a Palazzo Civico. A livello di importanza si tratta del secondo convegno a livello nazionale, oltre a quello che si tiene già a Rimini. Sì, un evento importante per la nostra città, grazie al nostro comando di polizia locale. Da tutta Italia verranno a confrontarsi con le tematiche delle nuove normative, delle nuove tecnologie, tutto finalizzato a dare più sicurezza e più certezza ai nostri concittadini e ai cittadini chiaramente italiani. Un momento importante che ancora una volta il nostro comandante ha voluto organizzare al meglio e vedrete che ci saranno le novità di approfondimento molto molto importanti proprio per migliorare in generale la situazione. È un momento di confronto per tutta la polizia locale italiana e è veramente importante, è un evento molto importante per la Spezia, per la nostra città. Si discuterà e si andrà a approfondire il decreto sicurezza del nostro ministro dell'interno Matteo Salvini e soprattutto sulle ordinanze che si potranno emettere in materia di sicurezza e per la tutela del decoro. Inoltre verrà messa in evidenza la tematica delle immatricolazioni all'estero, un fenomeno che in caso di incidente crea non pochi problemi a livello assicurativo. Una serie di controlli a tappeto sul territorio spezzino ha praticamente azzerato il fenomeno. Da 65 auto immatricolate all'estero si è passati a 4. Ci sono stati dei grossi controlli nella nostra città e si sta azzerando questo fenomeno di immatricolazione all'estero che cerca di reagirare un po' tutta la situazione in materia assicurativa. E anche qui siamo passati veramente a pochi veicoli grazie a controlli a tappeto e grazie al decreto sicurezza.